Incontri, mare, amici, anche con quest'anno per la quarta edizione del meeting dei giornalisti cattolici e non a Grottamare. Uno scenario bellissimo, accompagna i protagonisti in questi tre giorni intensi di lavori. Noi vogliamo ascoltare alcune delle loro riflessioni a proposito del tema di quest'anno. Tutto il mondo è intimamente connesso. Simone Incicco, un nome e una garanzia per il meeting dei giornalisti cattolici e non. Soprattutto e non è la caratteristica di quest'anno. Simone, qual è il segreto di questo successo che ormai da quattro anni si ripete? Il segreto è un'app che tutti possono utilizzare, che è amicizia, preghiera e perseveranza. Amicizia perché il meeting cresce grazie alle amicizie che si costruiscono nelle varie edizioni. La preghiera affinché tutti siano bene e si sentono accolti. E la perseveranza perché anche di fronte a difficoltà non bisogna arrendersi, ma bisogna proseguire. Un successo derivato anche dai tanti relatori. Quest'anno in modo particolare ha diverse personalità eccellenti in Italia. Sì, abbiamo avuto l'apertura dei lavori con Monsignor Viganò, che ha parlato della riforma della comunicazione in Vaticano. Poi tantissimi veramente ospiti in luce. Abbiamo avuto la chiamata in diretta del Presidente Tajani. Abbiamo avuto il direttore delle relazioni istituzionali Rai, Ferragni. E adesso sta parlando, sta concludendo, l'Arcivescovo Pizzaballa di Gerusalemme. Allora noi lo ascoltiamo, lo ascoltiamo. Ci diamo poi appuntamento al prossimo anno. Con molto piacere. Grazie. Siamo in periodi di grandi cambiamenti, cambiamenti epocali, però non sappiamo come andranno a finire. Non sappiamo come evolveranno. È ancora difficile poter dire come sarà il miglioriente che abbiamo tra 4 o 5 anni. Come sarà l'Egitto, come sarà la Siria, l'Iraq, anche la Giordania, il Libano. Non ne abbiamo. Per quanto riguarda il piccolo lembo di terra che è illuminato, la Terra Santa, Israele e Palestina, tanto per intenderci, insomma, per definire, ecco, dove ci troviamo, ecco, apparentemente non ci sono cambiamenti epocali. Siamo lì, la situazione è tutta ferma, diciamo, non dico cancrinita, però è bloccata. Non c'è nessun negoziato in corso, non c'è nessuna trattativa, non c'è niente. C'è la politica dei fatti sul territorio, fatti sul terreno, fatti compiuti, insomma. E questo crea grande instabilità, grande incertezza dal punto di vista delle prospettive politiche. Dall'altro lato Israele si sente molto forte, dall'altro lato i palestinesi sono deboli e divisi. Questo non aiuta certamente. L'ideologia di Daesh e Isis non c'è interassata, o meglio, Isis non c'è interassata come presenza fisica, ma l'ideologia estremista è arrivata anche lì, purtroppo, o non soltanto tra i musulmani, e vediamo anche forme di estremismo sempre maggiore anche all'interno del mondo ebraico. E questo crea, è fonte di grande preoccupazione per le piccole minoranze, soprattutto per noi cristiani. Per cui, ecco, in generale migliorità di grande cambiamento, per essere breve e sintetico, non sappiamo come sarà il migliorito nel futuro, non sarà lo stesso. E comunque è chiaro che ci vorranno generazioni per ricostruire, non dal punto di vista dell'infrastruttura, anche per quello, credo, perché chi conosce Aleppo, due terzi di Aleppo è stato distrutto, quindi ci vorrà molto tempo per ricostruire, ma soprattutto ci vorrà molto tempo per ricostruire un tessuto sociale stabile, solido, ecco, dove, e questo, perché questa guerra ha fatto saltare tutto, tutte le relazioni tra le diverse comunità, esempio, se no, resta tutto l'astratto, Patera Casaco, siamo nel nord della Siria, Patera Casaco dice, bisogna ricostruire quello che era l'antica Nini, nel Karakoshi, i villaggi dove c'era Isis, che adesso, per le quali Isis è stata scacciata, ma quasi nessuno vuole tornare lì, perché ci sono ancora tantissime variabili, dice, torniamo lì, per quanto tempo, cosa sarà il futuro, chi governerà lì, ecco, quelli che sono entrati nel nostro caso non erano solo quelli di Daesh, c'erano anche villaggi vicini, ecco, e cosa faranno i nostri figli, quale scuola, che lavoro avranno, ecco, sono, vorrei dire, tutto da ricostruire, sono situazioni oggettivamente molto complesse, ecco, e, l'anno scorso, cambio, cambio, per dire, sono una situazione molto diversa, veniamo a Betlemme, ecco, l'anno scorso, nel 2016, le Betlemme sono partite, definitivamente 126 famiglie cristiane, 126 o 28, non ricordo bene, con circa 500 persone, ecco, chi parte sono quelle che hanno i figli, perché i genitori vengono per i figli, come, dappertutto, penso, sono come è giusto e normale che sia, ecco, e dicono, tra qualche anno qui cosa ci sarà? Chi governerà? Come saremmo? I nostri figli avranno ancora questo muro di rifronto, oppure no? Insomma, ecco, meglio che vado a una trove dove l'edizione sarà dura, però alla fine avranno la vita, certamente più normale della nostra. Ecco, in questo contesto è molto difficile parlare di speranza, di prospettive, eccetera, ecco, dal punto di vista, linguaggi sono diversi, dal punto di vista religioso questo resta, tutto, anzi è ancora più valido, però è calato dentro un contesto politico estremamente fragile e instabile, che rende tutto molto più complesso e complicato. Ecco, Padre Pio Battista, nelle pieghe delle sofferenze di questo lembo di terra, che è la Terra Santa e il Medio Oriente in generale, vivono delle comunità cristiane, che, seppur unite dall'unica fede, sono diverse nei riti. Questo rappresenta anche un elemento di diversità che spesso viene vissuto come difficoltà piuttosto che come risorsa, almeno per quello che riguarda la vita dei cristiani. Ci puoi dire qualcosa sulla vita delle comunità cristiane? Come le comunità cristiane e cattoliche, maggiormente, vivono questa situazione che ci hai appena descritto, che non lascia presagire luci in fondo al tunnel, almeno per ora? Io sono rimasto, in questi ultimi anni, molto colpito, positivamente colpito dalla testimonianza che le comunità cristiane danno. Naturalmente molti sono partiti, ma molti anche sono rimasti perché hanno voluto, hanno deciso di rimanere. E dopo qualche esempio, durante il periodo peggiore della guerra a D'Aleppo, tutti i giovani delle comunità cristiane, ma poi una parete, se no non si capisce, durante il periodo peggiore della guerra, il problema principale per la città di D'Aleppo era l'acqua, non c'era acqua, l'acqua era tagliata perché le fonti erano sotto il controllo di Isis, quindi non c'era acqua. Quindi l'unico modo per avere l'acqua erano le pozze artesiane, e non tutti potevano avere i pozze artesiane, naturalmente. Poi per avere il pozzo, non basta avere il pozzo, devi avere anche l'elettricità che non c'era, per tirare sull'acqua e i motori, eccetera. Quindi i pochi da avere l'acqua erano naturalmente i conventi, le parrocchie, le moschee anche, ma soprattutto i conventi e le parrocchie, che tiravano sull'acqua, quindi avevano generatori, acqua, eccetera, che però doveva essere distruggita. L'altro pericolo erano i checkpoint, che tutta la città era pieno di checkpoint. C'erano due pericoli, uno per cui tu non sai chi c'è di là, potrebbero essere i militari irregolari, potrebbero essere i ribelli, eccetera. E ti prendevano sia gli uni che gli altri. I ribelli ti prendevano perché i nemici ti ammazzavano se non andavi con loro. I irregolari ti prendevano perché, soprattutto se eri giovane, non andavano a fare servizio militare, che era il terrore per i giovani. Nonostante questo, in un periodo peggiore, i giovani a turno, tutti a gruppi, naturalmente, e con i cagnoncini e le parrocchie, andavano in giro a portare l'acqua, tutti, per sostenere, eccetera. Non sono gesti scontati. Ancora oggi, ci sono due parrocchie rimaste attive con i loro sacerdote nel muro della Siria, Knaie e Iacobie, che sono sotto controllo di quello che era la vecchia Nusra, dove è proibito avere statue, croci, simboli, tutto, ma non si può. Lì si è sotto controllo dell'Islam radicale. Ecco, questi villaggi cristiani sono rimasti. E nonostante la proibizione totale di simboli religiosi, non hanno permesso a questi fanatici di toccare come sempre, li hanno saperiti loro. Il vino è proibito. Come se avete l'Islamo, non si può essere alcol, però non venuncio nell'Eucaristia, nascondono il vino ogni settimana in una famiglia diversa per continuare a bere il vino per l'Eucaristia. Sono tutti gesti, porto due di tantissimi esempi, che conosco personalmente, ho avuto constatato personalmente. perché dicono che questi sono i cristiani nel medio ambiente. C'è chi è partito, ma c'è anche chi è rimasto, è rimasto cristiano. Non semplicemente perché è rimasto cristiano, non ha abbiurato, ma semplicemente perché dà la testimonianza cristiana. Che è in uscita, direbbe Papa Francesco, cioè non stanno chiuse nelle loro case, ma portano l'acqua, si danno a fare, organizzano, fanno incontri, si muovono, vanno a aiutare gli anziani, preparano i gesuiti, pasti per migliaia di persone ogni giorno, e così via, con l'aiuto di tantissimi volontari. Questi sono i cristiani oggi, nel medio ambiente. che nonostante le persecuzioni, nonostante sia assolutamente non scontato, rimanere cristiani in quelle circostanze, decidono, che non è, sono nati cristiani, hanno sempre vissuto così, ma in quelle circostanze hanno deciso di rimanere cristiani e dare una altra testimonianza. Resto al convinto che il cristianesimo, magari non sbarirà, non sarà un cristianesimo trionfale, certamente non l'ho mai stato, ma lo sarà ancora meno, però resterà con tutta la sua forza, che non è quella dei numeri, che noi li abbiamo, ma è quella della testimonianza. Grazie a tutti.